Salve, Gigi Foresio, consulente immobiliare di Remax Stella Polare. Che ci faccio qui oggi? Sono qui per presentarvi un appartamento particolarmente interessante. Interessante per tre ragioni in particolare. La prima è la posizione. Siamo a Carrassi, siamo in via San Lorenzo. Via San Lorenzo è una traversa di Corso Benedetto Croce. Una strada tutto sommato tranquilla, non di grande traffico, ma nella parte più viva del quartiere Carrassi. In una posizione eccezionale perché è fra tre polistrategici della città di Bari. La stazione centrale, il Politecnico e il Policlinico. Ma poi ci sono tanti altri servizi perché è un quartiere particolarmente vivo. Negozi di ogni tipo, scuole elementari, medie e superiori. Abbiamo anche uffici comunali, trasporti pubblici. Quindi è una zona particolarmente viva. Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione è perché l'appartamento che vi voglio presentare è uno stabile signorile, particolarmente curato come condominio e ben tenuto. La terza ragione è la dimensione dell'appartamento. Parliamo di ben sei bani con due balconi che circondano l'appartamento ed è in ottime condizioni. Per queste ragioni vi invito a volermi seguire in questa visita. A presto. Grazie. 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 Bene, sono certo che la casa vi piacerà e sarò lieto di potervela presentare. Attendo le vostre chiamate. A presto. Grazie.